Cosa ne pensa Sunni dell'improvvisazione nel mondo dei tatuaggi? Improvvisazione nel senso di persone che si credono artistiche e si improvvisano tatuatori Che comprano una macchinetta, un po' di colore e iniziano a tatuare Sono la morte del nostro lavoro perché purtroppo queste persone rovinano altre persone E poi tocca a noi sistemarlo, però purtroppo questo è il lavoro per cui ci vuole tantissima umiltà Molte persone purtroppo credono che basti avere una macchinetta e un amico con un braccio a disposizione Però non è quello, sono tanti anni di gavetta, di pulire i bagni, servire i caffè e poi approcciarsi al lavoro È un mestiere a tutti gli effetti, un mestiere dove serve appunto professionalità innanzitutto E poi viene tutto il resto, la grande passione sta alla base però senza appunto il percorso giusto Non si arriva da nessuna parte Questo è quello che vorremmo trasmettere alle persone che ci seguono nella nostra trasmissione Sarai dei nostri? Ciao